Pugnarello e premia Alessio Mariano il consigliere dell'associazione Gruppo Voluntari Un giovane! E a questo punto te la sei cercata Ultimo del filere Tutte e due Un applauso forte Uniamo la bellezza alla politica Si può, si può Grazie da Massimo Roberto Pugnarello Non è normale, non è Può essere pratico Sbissacute Non ci siamo Ilaria Serra Miss Natura e Benessere Quinta classificata Prego Ilaria Perfetto Ilaria Serra Ilaria Serra Massimo Iannuzzi Che bello Vedere i nostri giurati che si mettono in discussione fino alla fine Grandi Miss Jean Cleberth Prima radio Oreggia Lei è la nostra quarta classificata Miss Jean Cleberth Quarta posizione quindi grande obiettivo anche lei potrà puntare alla finalissima regionale De Filet Prego Veda vada 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 Tutto il femminile Grazie c'è di meglio Prego Lei è Miss Jean Cleberth Quarta classificata Grande Veronica Terza posizione Eccoci Signori la terza classificata Si discorre qui da San Bartolomeo al mare Miss Maria Cristina Miss Veronica Brumazzi Le ringraziamo anche uno dei componenti della nostra giurità Seconda Seconda classificata Miss Kenon Chiara Davino I nostri giurati